Grazie ai fondi del PNRR, la Giunta Comunale Terramana ha approvato il progetto definitivo esecutivo per la riqualificazione di Piazza Garibaldi. In particolare l'intervento da 1,2 milioni di euro riguarda la sistemazione esterna e ripristino funzionale della sala ipogè dei sottopassi. Un intervento molto atteso, viste le condizioni preoccupanti in cui versano le infrastrutture sottostanti la piazza, ovvero i sottopassi utilizzati ogni giorno da centinaia di pedoni e la sala ipogè a spazio dedicato a eventi culturali ma anche istituzionali. Ma oltre a questo si andrà a modificare leggermente la parte superiore dell'ipogè, quella che insiste sulla rotonda in Piazza Garibaldi. Devo dire che è un'importante riqualificazione, correzione, vogliamo dire così, più che altro, dei tanti problemi che ci sono, perché ci sono infiltrazioni d'acqua ovunque all'interno, sia dei sottopassi che della sala ipogè. L'obiettivo che ci siamo posti è proprio quello della riqualificazione, nel vero senso della parola, di questi spazi, perché devono essere fruibili alla città senza problemi ovviamente di infiltrazioni d'acqua. Nello stesso tempo andiamo pure a rimodellare la parte superiore, a migliorarla sotto un profilo proprio estetico. Non è quello che avremmo voluto, ma l'importante è quanto meno che sotto il problema delle infiltrazioni d'acqua, dell'umidità che è perennemente presente, possa terminare. L'obiettivo dell'amministrazione è sia quello di risanare una situazione di degrado che rischiava di diventare pericolosa, ma anche migliorare e valorizzare la rotonda della piazza che rappresenta il principale snodo di traffico della città. Le tempiste che sono legate al PNRR non potranno finire oltre il 2026, ma non è questo l'obiettivo che ci poniamo, perché sia la somma che abbiamo stanziato e sia i lavori non potranno durare all'infinito, anche perché i lavori da eseguire su piazza Garibaldi possono rappresentare anche per la viabilità cittadina una problematica. Quindi dovremmo essere fortunati nella gara per trovare una ditta veramente importante che possa fare questo lavoro. Nello stesso tempo cercare di ridurre al massimo sia le problematiche connesse ai lavori da eseguire, e nello stesso tempo che i lavori vengono eseguiti nel miglior modo possibile per far sì che questo lavoro sia definitivo una volta per tutte, sotto tutti i profili.